allora come scavo a così decendo acqua dentro sinceramente che non volevo aprirlo andiamo vediamo teniamoci un botto le carte dentro le command dentro è una maghetta e una m7 però ero messo girateci boh in realtà questo lo posso buttare già eh leader star live o meno una tasta una ruota sec bravo bello se si vuoi là e si vuoi là mia questa è la quarta sembra buona questo non so manco che fa questo non so manco che fa questo non so manco che fa questo lo so che fa ma ci non ci esce niente da qua dentro certo come a finire quel tempo domani me lo porto domani non vengo bro purtroppo non da fare te lo porterei con tutto il cuore la web che mi può pregare basta che mi metto così metto così abbiamo risolto ma però si rompono subito se no troppo guag ma veramente si vede no ma pure tt con lecdo mi va bene cosa che sia decente ecco qua la nostra prima ultra fax e sua sorella ma ci nasce allora quant'è un price come qua dentro ragazzi non lo so 3 4 speriamo va bene c'è rito va bene uno rito questo è oltre 60 e qua c'è oltre qua datemi conferma datemi conferma datemi conferma datemi conferma ma se mi fasce la merda mi fasce la colla è un sacco della man non so con già oh cazzo i punk i punk i punk i punk stroy vabbè non ci sia cesta si è detta chi cazzo la compre eh se la compro almeno quella 5 città l'avevo detto vendiamocelo 10 euro di plazzo comunque bene ho sempre 10 euro risparmiati mi vuole le teste ecco qua c'è l'ecco oh maggio C'è stato un tizio. Cazzo raro, non c'è un cazzo Puzza di merda, stai nascendo Puzza di merda C'è un vero che non mi avevo mai scopo a già lo visto, vedi? Merda Facciamo che l'apro, guarda, l'altra parte Ma che è scerito, beh Non si devono mai aprire le buste di giochi Mai, mai, si devono aprire, mai Se le alternative devi sempre prenderle Ecco, questo è rito, eh Rito Eh Non è rito Va bene, pure Può uscire? Prova uscire Prova uscire Prova uscire Prova uscire questa Il cesso Come sempre Non c'è una mano, ti prego Rito Non c'è una mano, ti prego Rito Non c'è Che pane Eh Poi è molto bene No ma è La cupola, comunque, tra poco viene bannata tutte le fumetterie 10 Vai, dimmi la busta Sono qua Sono tutte qua Ecco qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eh, se non la gas La quinta Da qua 1, 2, 3, 4, 5 Questa Questa, quindi Giusto Ok Mettiamo da parte Apriamo da Vediamo questa che esce Gioco di figurine, bestemmiabili Niente Ne sono scelte 24 di queste Collector 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 Rito Collector Rito Collector Rito Collector Ma pure maghetta Cioè, voglio, ma che ci prego Gioco di bestemmi collezionabili Mamma mia Guarda, guarda in cammi Eh Vabbè Vabbè La busta che dice pepe Oltre Non è possibile Io vedo che tu non hai la sub Ah, forse è la sub ma non hai messo La mia La mia miniatura vicino al nome Tipo vedi pepe ce l'ha Però possono le mie moto Quindi dovesse avere la sub Il gattino fa schiatto Ah, le scatane le mette a buonare Ecco Oh Oh, non ci credo Quante ne devono uscire? Escono solo due ultra Confermatemi Quante tutte escono dentro sto box? Sono uscire già due C Tre, ok Possiamo ancora a campare Siamo ancora in carreggiato Ah Addio rito si Quello sicuro Cioè Sicuro nasce Cio vedi quando dico io una cosa Ci vedi che non me la sento Ce lo dobbiamo vendere Pure di che so dieci avrà a testa Non è per forza 3 3 ultra Oh sta cosa uscita 40 volte Cioè Pantecaniano questo Sbusta 4 barra 5 riti Eh Dario pure ha sbustato riti Cioè Nelle buste mi sa Anche non volevamo prendere Oh no Ah no no Gli ha dato altre buste Il cazzo Oh Enchantress Buono C Un bacio Abbiamo recuperato Ma bene Ah La Jameron Sì Non è la busta di Peppe però Non è la busta di Peppe Puglia e scerita E la vendita del box Eh eh Queste cose Calcola queste cose in più Se le vendiamo Codo mamma mia Come posso vedere sempre scolato in faccia Oh No niente La raga manca una busta E poi c'è la busta di Peppe Cioè Diceva che Che uscisse riti Eh Se hai scelto di reinzare con l'hector La tengo tedesca ma pigli italiani Eh Inizia a fare Vendo 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 Vedi chi la compra Vai subito Lei stai veloce Dai Fama scena con l'hector Uh Collector No Anche la busta di Peppe raga Ah Ah boh però vabbè Cioè Enchantress è uscita Mi sta bene Alla fine volevamo venderlo Quindi Sarebbe andata comunque Allo stesso prezzo Rito non Boh mai uscito Questa busta del fuoco eh Questa busta di Peppe raga Calma Oh Uno Due Tre Ma no peppy Quattro Quante buste Quante carte escono Ok mi sa che c'è un'altra Non l'ho vista Allora 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 Usiamo questa Già imbarcata Già imbarcata Già imbarcata Secondo me è una super Secondo me per forza è una super Per essere così imbarcata raga Ma non la vedo eh Però guardate qua Ma non si vede bene cazzo Allora Allora Giro non guardo Che Scrivete Lucazzo Porca madonna Ah Busta in merda Pepe Che busta di me Puoi mettere la folder a sta merda qua Di Ancian A presto Allora A presto Amore A presto A presto A presto